Amici fungari, questo è il risultato finale della prima raccolta interessante di quest'anno, di delle meraviglie di bombette, una più bella dell'altra, come potete vedere. Guardate qua. Ce l'avete già visti. Sembrano tartufi, non porcini. Comunque, sono veramente spettacolari. E va bene. Ecco qua, una panoramica. Buona raccolta anche a voi.